Interprete nel ruolo di Cecilie del film poliziesco di Terence Fisher del 1959 La furia dei Vaskerville, in cui fu doppiata da Flaminia Iandolo. Ha avuto fra gli altri suoi maggiori ruoli quello di Mary in Aldilà del Ponte. 1957, presentatrice del programma televisivo per ragazzi alla televisione inglese Play School. Ha curato la rubrica Parliamo Italiano, come modella fotografica posato per le copertine di numerose riviste di moda, fra cui Vogue, Harper's Bazaar e Tatler. È poi stata essa stessa collaboratrice per il settore moda di Harper's Bazaar. Ritiratasi dalle scene, ha poi intrapreso una propria attività imprenditoriale nel campo della creazione di modelli di parrucche.